Sarebbe stato scoperto a Belluno, ovviamente in regione Veneto, un bed and breakfast del sesso con donne che sarebbero arrivate da tutto il nord Italia per prostituirsi. I carabinieri di Belluno avrebbero messo piedi all'interno dell'appartamento e avrebbero comprovato l'esistenza di un vero e proprio calendario in cui si sarebbero alternate diverse donne che avrebbero offerto i loro servizi nel bellunese. Insomma, una situazione questa che ovviamente ha lasciato sgomento e non poco in regione Veneto, anche e soprattutto a Belluno, questa città straordinaria dell'interno Veneto per eccellenza. Vi ringrazio per l'ascolto, tra le giustificazioni che donne avrebbero detto ci sarebbe anche quella secondo cui mi servono soldi perché mia figlia si sposa. Grazie a tutti, in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi, iscrivetevi se vi va, commentate e al prossimo video da narratore italiano di YouTube Italia.